Avviare un confronto sul tema della transizione energetica, della sostenibilità con un particolare riferimento all'economia circolare, sia a livello comunale che provinciale, ma anche sviluppare iniziative di efficientamento energetico, elettrificazione dei consumi, produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, cogliendo tutte le opportunità offerte dalle nuove configurazioni in ambito di generazione distribuita, le cosiddette comunità energetiche, con particolare attenzione alle infrastrutture di ricarica in corrente continua in modo da favorire lo sviluppo della mobilità elettrica, anche qui nel territorio comunale e provinciale. E sono solo questi alcuni dei punti dell'accordo siglato tra Enel e Unione Industriale Biellese per avviare una collaborazione con un programma di formazione orientato alla sostenibilità e che sarà organizzato con il coinvolgimento di Città dell'Arte Fondazione Pistoletto. Un'attenzione particolare verrà anche dedicata al turismo sostenibile. Sono entusiasta della collaborazione con l'Unione Industriale di Biella per lo sviluppo dei servizi innovativi che renderanno le imprese più competitive e allo stesso tempo sostenibili, afferma Augusto Raggi, responsabile Enel Italia. È un progetto che mira ad intraprendere una concreta transizione energetica, aggiunge Paolo Barberis, canonico vicepresidente UIB. L'associazione lo supporta per promuovere la nascita di iniziative nuove, sostenibili e locali per l'autoproduzione, l'approvvigionamento e l'utilizzo dell'energia. Aspetti questi su cui si gioca la competitività delle nostre imprese.